Ha girato l'Italia con una sfilza di alias, è stata però fermata e incastrata a Bassano dagli agenti del commissariato di via Pecori-Giraldi. La donna, una 24enne nigeriana, era sbarcata a Lampedusa nel 2016, scappata dal centro accoglienza, negli anni era salita verso il nord, riuscendo a presentarsi sempre con un'identità diversa, senza mai destare sospetto. L'altro giorno Bassano ha però tirato l'attenzione perché era sprovvista di biglietto nel treno e aveva avuto un battibecco con il capo stazione che aveva chiamato le forze dell'ordine. Agli agenti la giovane ha mostrato un documento provvisorio rilasciato dalla questura di Firenze, ma quel biglietto d'invito stavolta non ha convinto i poliziotti. Condotta in commissariato è risultato essere carta straccia, completamente falso. La donna è stata denunciata per ricettazione, false attestazioni di identità e ingresso illegale nel territorio nazionale.